Presidente Eliotti, dopo una giornata di acqua razionalizzata per la città e soprattutto per le zone più alte, anche Papanige, adesso qual è la situazione? Allora la situazione è questa, noi abbiamo fatto vantieri la chiusura dei serbatoi alle 9 di sera, questo perché? Perché storicamente in questo periodo l'acqua, il fabbisogno idrico che manifesta la città di Crotone, per ovvie ragioni, perché il fabbisogno è dettato dall'aumento del calore, quindi più caldo fa più la gente consuma acqua. Il fatto che a Crotone ovviamente c'è una inurbazione più elevata perché rientra la gente, noi storicamente abbiamo una fornitura di 280 litri al secondo, quest'anno Sorical ce ne sta mandando 250 litri al secondo, quindi sono 80 litri al secondo che significa sostanzialmente che non dà la possibilità al serbatoio di reintegrare l'acqua che si manda perché ne sta uscendo più di quanto ne sta arrivando. Per evitare problemi alla città abbiamo chiuso vantieri notte alle 9 di sera, tutti e due i serbatoi, alto e basso. Si sono ripresi i serbatoi, quindi i serbatoi sono di nuovo in piena funzionalità. Quindi l'acqua l'abbiamo dalle 5 di mattina, l'abbiamo rinviata a tutte le case che serviamo nella città di Crotone. Ovviamente qualche problema possiamo averlo nelle zone alte perché lì è un problema di pressione, se si chiude e poi non c'è la giusta pressione l'acqua difficilmente. Ma anche su questo abbiamo attivato sempre attraverso il numero verde la possibilità di chiedere in questa situazione come l'autobot come sistema alternativo. Ad oggi quindi la distribuzione idrica in città è totalmente ripresa, quindi non c'è nessun problema di razionalizzazione. Quello è stato un problema. Ovviamente Sensorical non provvederà ad aumentare le forniture e a ristabilirle per come sono i periodi dell'anno, perché nel periodo di agosto, luglio-agosto, quella è la quantità di acqua di cui abbiamo bisogno. È evidente che il problema si ripresenterà. Ma faremo sempre quelle manovre che consentono di non lasciare la città a secco. Quindi se dovesse essercene bisogno, ad oggi non è così, quindi ripeto, ad oggi non è così, se non per Papanice dove dobbiamo far recuperare anche il serbatoio di Papanice. Ma dove dovesse essercene bisogno dovremmo rifare le stesse manovre. andare a chiudere la sera per poter far recuperare i serbatoi e la mattina alle 5 riaprire per poter rimandare l'acqua nelle case delle persone. Quindi non è un problema che rimarremo senza acqua? No, no, anche perché, voglio dire, non capiamo, non capiamo, al di là del contenzioso che c'è Fra Sorica e Le Congesi, che è un contenzioso presso il Tribunale Amministrativo regionale rispetto a queste questioni, Da questo punto di vista, quella che è la fornitura necessaria per soddisfare i fabbisogni della città deve essere garantita. Quindi quei 280 litri al secondo che storicamente abbiamo avuto forniti da Sorica anche negli anni passati, anche quest'anno deve essere ripristinato nella stessa maniera. Se questo non viene fatto, noi dovremmo ricorrere a queste manovre che permettono appunto di non mandare la città in difficoltà rispetto alla fornitura idrica.